Buonasera a tutti, sono la dottoressa Cosma, presidente di commissione per quanto riguarda la delegata al turismo. Vorrei dire due parole importantissime. Stasera vorrei ringraziare soprattutto la riuscitissima serata fatta con la collaborazione soprattutto del presidente dell'associazione Arcobaleno. Devo dire che ha animato il paese veramente con determinazione perché non sono tanto facile che possono riuscire queste grandi manifestazioni. Però voglio ringraziare l'associazione Arcobaleno e soprattutto la presidente, la signora Tartariello e soprattutto anche il vice sindaco che ha praticamente voluto fortemente questa serata. Grazie a tutti, buonasera.